È una giornata, quella dedicata alle malattie rare, importante per le malattie metaboliche ereditarie, ovvero i 1815 disordini geneticamente determinati che si manifestano con alterazioni di un pathway, cioè di una reazione metabolica, e con manifestazioni cliniche il più quanto mai eterogene. È un prototipo, è un paradigma, quello delle malattie metaboliche ereditarie, importanti per le malattie rare, perché sono malattie genetiche, sono malattie che colpiscono il bambino, ma che ovviamente possono interessare anche l'adulto, conforme late onset o con soggetti che ammalati fin da bambini diventano adulti. È un paradigma importante perché è un paradigma di una malattia che può essere diagnosticata, che deve essere diagnosticata precocemente anche attraverso tecniche di screening neonatale. Un capitolo delicato, un capitolo importante però per il nostro Paese. Il sistema Italia è in grado di assicurare ben 49 più 10, il primo aprile usciranno i LEA, che contengono le altre 10 malattie che verranno inserite, in un panel totale di 59 malattie metaboliche scrinate alla diagnosi, scrinate alla nascita e poi confermate attraverso test diagnostici mirati e prese in carico con terapie di supporto sempre e con terapie talvolta eziologiche specifiche, comunque interventi atti a migliorare la qualità della vita e a volte proprio a guarire questi pazienti che non manifesteranno mai le azioni. Perché è importante il sistema screening? Perché oggi è un sistema difficile da portare avanti in 19 centi che in Italia fanno 59 malattie e io credo che noi dobbiamo essere i primi a porci l'obiettivo di rendere maggiormente equo, efficace e sostenibile il nostro sistema screening, ad esempio facendo in maniera che i centi screening non aumentino, anzi si riducano, efficientando i sistemi attraverso collaborazioni interregionali e interventi sovra-regionali. Le malattie metaboliche sono importanti, sono il prototipo delle malattie in cui la ricerca ha prodotto interpretazioni patogenetiche uniche, rilevanti e soprattutto ha dato la possibilità alle big pharma con cui dobbiamo collaborare in maniera trasparente e sempre più attenta per produrre nuovi farmaci. Loro lo fanno di mestiere, hanno interesse a produrre nuove molecole, a noi sostenerli nell'ipotesi di ricerca, nell'ipotesi di ricerca di nuovi farmaci e soprattutto sostenerli nella sperimentazione clinica. I malati si prestano alla sperimentazione clinica perché si rendono conto dell'attenzione che il medico, che il ricercatore dedica alla valutazione di questi farmaci. Quindi questo ci deve indurre a sperare bene. Il sistema Italia, il sistema Paese fa tanto per lo screening, deve fare sicuramente di più per la sperimentazione delle nuove molecole e il sistema Paese deve essere più agile, più agile nell'approvare cose di cui i pazienti hanno bisogno, deve essere più agile nel consentire le terapie domiciliari a tutti, sempre, deve essere più agile nell'inserire nuove malattie nei sistemi di screening e nei LEA e deve ascoltarci, deve poterci dare modo di interagire in maniera istituzionale. Vogliamo dire la nostra, non già per accapararci finanziamenti pubblici, ma per rendere maggiormente efficiente il sistema Paese.